Siamo in piena estate, la lanterna Taekwondo non si ferma. Fabrizio Terrile, per te e per Stefano Effori è arrivato un riconoscimento importante a livello internazionale, una bella novità. Sì, abbiamo fatto un corso online riconosciuto dalla VT, dalla World Taekwondo Federation, online, questo weekend appena passato, e siamo diventati coach internazionali di primo livello. Questo permetterà a noi e ai nostri allievi di poter partecipare alle gare internazionali del circuito della Federazione Mondiale di classe G, che sono quelle che comunque danno punti olimpici nel ranking internazionale. Attività a pieno regime presso la palestra di Boccadassi? Siamo sempre aperti fino a luglio, come da qualche anno a sta parte facciamo una sorta di centro estivo ridotto, lunedì e mercoledì facciamo allenamento mattina e sera, e giovedì pomeriggio con tanto di preparatore atletico. Dopo una stagione e mezza inevitabilmente segnata dal Covid, dal primo di settembre ci sarà una vera e propria ripartenza? Speriamo di poter partire come nel pre-pandemia, ripartiremo anche nella scuola Contubernio in via Marena, dove eravamo già presenti i due anni precedenti di questo problema mondiale, speriamo di poter tornare ad avere più di 100 tesserati come avevamo nei cinque anni precedenti, speriamo che si possa ripartire a pieno regime. La collaborazione con la Contubernio è qualcosa che ha caratterizzato le stagioni precedenti pre-Covid, qualcosa che veramente con piacere, con il direttore Magaglio avete voglia di riprendere? Sì, anche perché per noi è un serbatoio importante, abbiamo bambini dalla materna fino alle medie, avevamo avuto 60 bambini tesserati nei due anni in cui abbiamo potuto lavorare, quindi per noi il settore giovanile è troppo importante e questo ci permetterà di ripartire ad avere i numeri che avevamo nel pre-pandemia. La speranza è anche quella di tornare presto a confrontarsi anche sui quadrati di gara? La speranza c'è, dobbiamo recuperare i campionati italiani di marzo 2020 che dovevano essere a Genova, la speranza è quella di poterli fare qua in città e che sarebbe un ottimo promo per tutto il movimento Ligure. 2022 saranno all'insegno di un compleanno speciale, 2022 saranno 10 anni per la Lanterna Taekwondo. Saranno 10 anni di questa società, speriamo di poterlo festeggiare intanto con la ripresa, la ripartenza anche della nostra gara che arriverà all'undicesima edizione, speriamo di poter festeggiare lì e di poter fare una gara ancora con numeri record dopo i 500 tesserati del 2020. E facciamo un passo avanti ma breve, ci saranno le Olimpiadi, ci sarà la possibilità di entrare a contatto con una disciplina che sta prendendo sempre più piede, sta crescendo anno dopo anno. I numeri sono buoni, quest'anno finalmente siamo riusciti a qualificare di nuovo due atleti maschili, dopo aver purtroppo c'è fatto l'ultima Olimpiade. Speriamo che la gente guardi il Taekwondo, perché è altamente spettacolare, speriamo di vincere una medaglia che con la ripartenza di settembre è una possibile medaglia. Speriamo che porti nuovamente altri iscritti nelle varie società.